Ti sfido, fai Ken il guerriero che si illumina al buio come sai fare te e vediamo se sai rendergli onore Ok, vediamo Ragazzi ho messo un secolo, Ken Shear è un mostro così sacro che ho impiegato più tempo di qualsiasi altro disegno io abbia mai fatto A parte il frigorifero, ho preparato ben dodici maschere per ricrearlo ed è un record per me Gli stencil sono di una precisione nanometrica, sono stato meticolosissimo, ovviamente tutto fatto a mano E la fotoluminescenza, cosa ve lo dico a fare? Come molti di voi già sanno, questo quadro è limited edition, sono disponibili solo 5 pezzi sul mio shop dall'uscita di questo video Insieme a lui entreranno a far parte della collezione limited anche molti altri personaggi E intanto, guardate qua Oh, guarda che roba, gli ho reso onore oppure no? Alexa, aspetti tutto No, adesso voi ditemi dove avete mai visto un Ken Shear così, ditemelo Alexa, accendi tutto Lo trovate sul mio shop, il link è in bio, edizione limitata, solo 5 pezzi